Musica Un gelato in una sera d'estate prima di ricominciare la scuola doveva essere un momento piacevole tra una mamma e sua figlia Ma un uomo dopo aver fissato la donna e la bambina ha iniziato a masturbarsi E' accaduto in Brianza intorno alle 22 in un bar del centro del paese Le malcapitate di 12 e 43 anni erano sedute a un tavolino Mentre l'avventore, un marocchino di 47 anni, a pochi metri da loro le guardava con insistenza D'un tratto si è toccato i genitali, poi si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi La mamma, preoccupata anche per l'impatto che la situazione potesse avere sulla figlia Si è alzata, è andata verso l'uomo e gli ha intimato di farla finita e di ricomporsi subito Il 47enne, palesemente ubriaco, di tutta risposta ha reagito con offese e aggressioni verbali verso la madre Culminate in una minaccia di morte Ti ammazzo, ha detto, tu non lo sai ma io sono marocchino, ti ammazzo A quel punto si sono avvicinati il titolare del bar e altre persone L'uomo allora si è alzato e si è rivestito, probabilmente intenzionato ad allontanarsi Ma è stato bloccato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati I militari lo hanno condotto in caserma per le operazioni di identificazione Il marocchino è stato poi denunciato all'autorità giudiziaria Per i reati di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori e per minacce Weekend a 300 all'ora, non solo in pista Il Gran Premio di Formula 1 inizia ancora prima delle gare di qualificazione Con l'inaugurazione della Fan Zone giovedì 31 agosto alle 14 Ingresso libero per incontrare i piloti di Formula 2 e 3 che sfileranno sul palco Da venerdì accesso all'area solo con ticket e a salutare il pubblico saranno i piloti di Formula 1 Tra una prova libera e l'altra Nel frattempo gli appassionati potranno cimentarsi nel cambio gomme Testare la propria abilità al simulatore, vivere l'emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro Nell'area si metteranno in mostra alcune monoposto made in Italy del passato Tra cui l'Alfa Romeo 182 e la Minardi 189 L'esposizione culminerà domenica mattina con la parata delle vetture storiche Naturalmente un tributo speciale alla Ferrari nella sua gara di casa Con le auto che hanno fatto la storia della Formula 1 Con il sottofondo dei rombi dei motori in pista a scandire il ritmo del fine settimana monzese 8 DJ di M2O Pit stop di questa colonna sonora solo nel pre-gara con il violino elettrico suonato da Andrea Casta E poi con il volo che canterà l'inno di Mameli a pochi minuti dal via Accompagnato dalle frecce tricolori A refrigerio ci pensa Brianzacqua e con 10 stazioni di erogazione gratuita d'acqua pubblica, naturale o gasata All'interno del circuito Le postazioni saranno allestite anche nelle principali piazze di Monza, Biassone e Vedano Dove si terranno le manifestazioni collaterali alla gara L'acqua a chilometro zero di ottima qualità, spiega il presidente AD di Brianzacqua Enrico Boerci Rappresenta un'eccellenza del territorio da promuovere e valorizzare Facendola conoscere e degustare le centinaia di migliaia di sportivi Che convoglieranno in Brianza da tutto il mondo Lutto nel mondo dell'imprenditoria Si è spento all'età di 89 anni Eugenio Canali, presidente onorario dell'omonima azienda di abbigliamento fondata a Triugio Specializzata nella produzione di capi di lusso maschili Aveva preso le redini dell'azienda nel 1953 Contribuendo a far diventare il marchio Brianzolo noto in tutto il mondo La scuola mia è stata partendo dallo zero assoluto Un'operaia anziana parla di Uge E dico, cosa sono gli Uge? Quella mi guarda fisso negli occhi e dice Ma lei, aveva intuito, ma che cosa ha studiato finora Se non sa nemmeno quali sono gli occhielli Questo è stato un messaggio che mi ha piallato Ma è stato positivo nella vita Non ti considerare mai grande Sei sempre un ranocchio Mira a correre più degli altri Salutiamo un padre, un uomo e un imprenditore straordinario Il messaggio sui social dell'azienda Il profondo impatto sul mondo della moda maschile Con il suo instancabile impegno a sostegno nel Made in Italy Sarà ricordato ben oltre i confini dell'azienda Che ha saputo trasformare in emblema dell'eccellenza sartoriale italiana in tutto il mondo La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica Continueranno ad ispirare la terza generazione dell'azienda E tutti i 1.400 dipendenti che ha sempre considerato parte della grande famiglia Canali Ci mancherà per sempre, conclude l'azienda, ma non sarà mai dimenticato A ricordarlo anche il sindaco di Triugio, Pietro Giovanni Cicardi Il territorio di Triugio fin dai primi anni della fondazione dell'azienda di confezione di abiti sartoriali E' strettamente legata alla storia e al successo nazionale ed internazionale del marchio Canali Spiega il primo cittadino Il dottore Eugenio, uno tra i principali interpreti del gruppo E' stato anche sindaco del comune per dieci anni nel periodo del boom economico Coniugando l'attività di imprenditore e quella di amministratore della nostra comunità Rimane certo la consapevolezza che l'azienda legata alla famiglia Negli scorsi decenni ha rappresentato un grande punto di riferimento Per le opportunità di lavoro, per aver fatto conoscere il nostro paese in tutto il mondo Le scelte imprenditoriali strategiche che negli ultimi decenni hanno portato l'azienda A svilupparsi in altre aree del territorio italiano Hanno lasciato indubbiamente un vuoto di prestigio e di qualità nel nostro comune Aggiunge con amarezza Cicardi In qualità di sindaco non posso fare a meno però di ricordare Che il dottore Eugenio si prodigò non poco Affinché l'azienda potesse tornare ad essere protagonista sul nostro territorio Buona la prima in casa per la Serie A di quest'anno per il Monza di Raffaele Palladino Che dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inter ha trovato immediato riscatto sabato sera Vincendo per 2-0 contro l'Empoli Decisiva la doppietta di uno scatenato col Pani Con le due reti che sono arrivate a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo Dopo la traversa colpita in avvio da Gagliardini Il tabellino si sblocca al 45esimo con uno straordinario sinistro all'incrocio dei palli dell'ex Atalanta Che si ripeta al 53esimo infilando di testa un non irresistibile Perisan sul cross da sinistra di Ciurria Un ottimo Monza che per tutta la gara dimostra un buon gioco E la sua superiorità tecnica e fisica rispetto a un Empoli per ora meno brillante rispetto alla scorsa stagione Anche se in un paio di occasioni sono decisivi gli interventi di Di Gregorio per difendere la propria porta Un successo che per il momento spegne le critiche delle ultime settimane verso i biancorossi Direi che abbiamo fatto una grande partita Non perfetta perché sicuramente abbiamo concesso qualcosina all'Empoli Su piccole disattenzioni nostre che possiamo evitare E ovviamente poi quelle piccole disattenzioni le puoi pagare Quindi non dire perfetta però abbiamo fatto una grande partita Grande partita come spirito, come intensità, come duelli, come partecipazione Ma come vi avevo detto ieri in conferenza ho visto una grande settimana da parte dei ragazzi Ho visto davvero quella fame, quella cattiveria Probabilmente la partita dell'Inter ci ha fatto anche arrabbiare un po' Ecco, e avevo visto davvero una bella settimana Si entra così anche nell'ultima settimana di Calcio Mercato Ufficializzato l'arrivo di ACPAC Pro in prestito dalla Lazio Con l'Ivoriano che era già presente sugli spalti sabato sera Ultimi giorni decisivi anche per la scelta della punta Colombo del Milan resta il primo nome Ma chissà che i cosiddetti giorni del Condor Galliani non possano portare nuove sorprese La società sa che noi cerchiamo un centro avanti Ma siamo in perfetta sintonia con la società Poi sapete che il mercato è imprevedibile Può arrivare come non può arrivare Noi abbiamo dei profili a cui stiamo seguendo Però ci auguriamo che arriva Perché comunque lì davanti ci servono delle caratteristiche ben precise Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti